Ok, allora, ragazzi, forza, dai, avviciniamoci perché è gratis, quindi avviciniamoci al palco Allora, benvenuti alla festa del primo maggio, forza, avvicinati, quindi badiamo, eh DJ, e via, un grande applauso, forza, dai, facciamo sentire che ci siete, forza Allora, pronti che si badano, ragazzi, eh Dai, forza, dai, su, muoviamoci Dai, forza, allora, ci siamo, ragazzi, eh Vediamo, vediamo, da questa parte, ci siamo, vediamo Ci siamo Di qua Ci siamo Vai, forza, che si cambia Su le mani, forza, su le mani Su le mani, vai Dai, forza, dai, su le mani, a ballare Vai, facciamole sentire queste mani, forza, svegliamoci Al processario, forza Vai, vai, vai Forza 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 Ah, ecco qua, allora abbiamo detto che c'abbiamo una compatria di rossato cadabro Su le mani, forza Su le mani, forza Su le mani, e balliamo a porto Cesario Su le mani Su le mani Ok, dai, ragazzi, che c'è quella Forza, balliamo Su, su, su Su, su Su, su, su Su, su Su, su Su, su, su Su Ok, adesso andiamo un po' indietro nel senso e paghiamo gli anni nuvanta. Vai, io qua se la ricorderanno quasi tutti. Ok, vai, vediamo quelli che non sono più giovanotti come me. Vediamo dove sono, non ci siete? Vai, allora, sulle mani al cielo, sulle mani al cielo, vediamo se arriva. Vai, allora, sulle mani al cielo. no 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 mi sta piaciutando ecco qua allora e se aggiungono ancora gruppi man mano però voglio vederli con le mani alzate allora tanto per cominciare c'è il gruppo di Andria dov'è? ma è così pochi non si sente da qua è il gruppo di Andria ok benvenuti a Porto Cesario abbiamo ancora il gruppo di Veglie dov'è? eccolo il gruppo di Veglie noi abbiamo Castellana Grotte dov'è? eccolo e forza venite di qua dai venite a ballare facciamo un gemellaggio nella Puglia forza a tutti a Porto Cesario per il primo maggio del 2010 con lo DJ Elia in corso un grande applauso ci va qui eh vediamo sentiamo le mani sentiamo le mani sentiamo le mani forza allora Veglie forza al centro Castellana Grotte Andria porta tutti a ballare e nonché Porto Cesario ancora anzi domanda DJ è via il son allora ragazzi visto che qua è pieno siamo pronti per la barra che cosa avete capito? eh siamo pronti per razzare la iuola eh e vai razzatevi la iuola vediamo chi ha la iuola razzata passi la mano eh così puoi bravo il capellone come me grande ok forza allora ragazzi c'era io una donna qui sopra l'arbarco si vedono persone veramente giovani ma con i capelli bianchi grande forza Castellana porta ballare al centro dai non si vergognate tanto tutti guardano niente nessuno con le mani tutti youtube è pericur e pure a me non mi va eccolo qua ci si dà qua ah ecco qua e ci accamo anche contro i salmi a soli pochi chilometri di distanza abbiamo il gruppo di copertino dov'è? dov'è? dov'è il gruppo di copertino alzate la mano ok IMCA forza questo posso ballare anch'io vediamo tutti insieme balla 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 forza dai a ballare vediamo ok seguiamo le nostre ragazze triangolo perché per il gruppo manca ancora fattiando dai forza ragazze ok seguiamo forza ragazzi tutti yamme yamme dai forza ragazzi come tu forza venite venite non vi vergognate tanto abbiamo preso già il numero della targa e sappiamo dove trovare ymca ymca sulle mani a cielo ymca vediamo tutta la piazza da riparare tutta la piazza vediamo anche giù il pop pronti e non gridate ok ecco qua arriva anche il trenino direttamente dalla stazione centrale di legge pronti e yamme ragazzi forza dai ok tra i giornalotti qui alla mia sinistra vediamo i ragazzini di Porto Cesare invece stanno confagurando qualcosa pronti ragazzi vai agganciamoci al trenino forza che facciamo una grande festa carai dai dai che gruppo belle belle si è svegliato ragazzi che casino conveglie a Porto Cesare che bala il primo maggio del 2010 ma che casino attenzione io sono sicuro che il Porto Cesare era di Castellana Grosse ora giudisce dai forza noi uniamoci al trenino di Fratellanza oh che bello sempre più luminosi sulle mani forza ragazzi forza ok ok dove sono le mie ragazze triangolo eccole qua le mie ragazze di triangolo vamos a bailar forza avvicinatevi forza eccoli qua i ragazzi di Castellano via poi avvicinatevi muove la colita muove la colita muove la colita oh oh futuro è ma l un l l Grazie a tutti.